Eleonora, come volresti essere presentata? Oggi vorrei che si riconoscesse il fatto che sono una persona impegnata socialmente, impegnata nel campo della conoscenza e della libertà, da più di 30 anni cerco di avvisare la gente dei rischi che stiamo correndo, non ho mai smesso di farlo e ho delle belle medaglie sul mio giustacuore, come l'espulsione dalla RAI per le mie idee antiscientifiche, sovversive addirittura, quindi che contraddicono la Costituzione ancora apparentemente vigente, che però non è affatto vigente perché non ci dà il diritto neanche di opinione, per cui espulsa dalla RAI nel 2018 con contratto firmato, nessuno ha spezzato una lancia per dire ma scusate che cosa ha fatto di male la Brigliadori? La Brigliadori ha avvisato anzitempo tutti quelli che poteva, fino a quando aveva dei mezzi come i social media, che era un rischio andare ad accettare questi vaccini, aveva cominciato già ai tempi della Lorenzin a dire che era pericolosissimo usare i bambini appena nati come puntaspiglia, ancora prima aveva avvisato che quando c'era quell'ex ministro della salute che aveva interessi mostruosi nell'ambito delle chemioterapie e che lui avendo il cancro non aveva mai fatto la chemioterapia, aveva cercato di mettere in guardia contro questa terapia che ha avuto effetti disastrosi e che se andassimo a fare i calcoli dei morti cosiddetti di cancro scopriremo che è più di un campo di concentramento dei tempi dell'attività del Terzo Reich. Ok, allora io vorrei una considerazione da parte tua circa quello che sta succedendo in termini politici perché il nostro governo è caduto, ci saranno le elezioni. Come vedi e come vivi questo momento attuale? Allora, lo vivo con la sensazione di una percezione alterata della realtà. Non ci siamo resi conto che mano a mano che dopo la Seconda Guerra Mondiale lo strapotere americano imponeva determinati comportamenti, ci colonizzava con i film, i condizionamenti che abbiamo subito sono stati capillari. Siamo cresciuti con la cultura americana. Sappiamo anche che i giornalisti, ho sentito proprio pochi giorni fa un giornalista tedesco che raccontava come i giornalisti di tutte le testate vengano invitati e vengano turlupinati fino a cedere a questa propaganda americana che comprende, come dire, una sorta di accettazione della visione hollywoodiana del cinema come unica realtà, che è una visione terrifica. Da una parte gli extraterrestri di Spielberg, dall'altra voglia di tenerezza. Per esempio un film dove comincia a nascere dal cinema quell'idea che la chemioterapia possa fare qualcosa di buono e se andate a vedere proprio nella filmografia americana tutto quello che è avvenuto è stato annunciato con personaggi che identifichiamo con precisione. Quindi la forza di questa negazione della verità è proprio che a furia di sbandierare una cosa falsa si crea il capovolgimento nella persona che quella cosa diventi accettabile. è uno smantellamento dell'impulso morale che è definito nei linguaggi psicologici come finestra di Overton. Quindi essendo ormai arrivato a fine corsa questo effetto di alterazione della realtà le persone non sanno che sono in volo rovescio. Ecco, scusami Eleonora. E quindi io credo che più incominciano però a rendersi conto che siamo stati programmati in un certo modo, con l'informazione... No, siamo stati schiavizzati e ridotti a un automatismo e adesso con questi ministri della transizione e del transumanesimo che dicono che la terra è fatta solo per 3 miliardi di esseri ma chi l'ha detto? Perché loro vogliono mettere i microchip e vogliono controllare le nascite. Ora sappiamo che questi presidi di alterazione genica alterano il genoma, riducono la fertilità fino a ridurre veramente l'umanità al servizio di chi governa dietro le stanze dei bottoni e non mi va neanche di stigmatizzare il nuovo ordine mondiale, illuminati, sono tutte parole vuote perché in realtà la vera lotta si svolge nell'uomo, nel singolo uomo dove non c'è Cristo che opera per trovare la via di verità tra l'accelerazione luciferica, illusoria e la paura e la sclerotizzazione arimanica che sono nel linguaggio diciamo cristiano, lucifero e satana se non si ha il Cristo nel cuore che opera nell'io sono, cioè da una posizione che solo l'uomo da solo può attivare. Quindi se non accendete la lampada dentro, come dice il primo comandamento, che l'Italia dovrebbe essere guelfa, tutti sono battezzati ma io vedo un popolo di musulmani che non conoscono il Cristo. Ecco perché il primo comandamento dice io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. E quando si dice questo si fa riferimento, e Steiner lo spiega molto bene nelle sue conferenze, a quel principio unico dell'autocoscienza che solo l'uomo può pronunciare dentro se stesso, quindi non è in terra, non è in cielo e non è tra cielo e terra, è solo dentro uno spirito umano. Quindi se voi vi asservite a un Draghi, a una ministra Lorenzina, a un ex Veronesi, che è un Asvero, che era quello che maledisse Cristo sulla via del Golgotha, e quindi chi rinnega l'essenza spirituale dell'uomo, chi pensa di poter fare meglio della natura creatrice del padre, in realtà pecca di presunzione e da quel momento opera per la distruzione della libertà, della verità e della vita. A questo punto non mi rimane altro che chiederti... Che cosa faresti tu alle elezioni? Che cosa faresti alle elezioni? Ecco questo è il tema che ho trattato anche nel mio gruppo Telegram. Ho avuto una piccola visione che poi è stata anche corroborata da altri amici che lavorano in senso antroposofico, che cercano di fortificare se stessi. Il discorso è questo, siamo di fronte a un parto podalico. Se avete un minimo di conoscenza di questo processo della nascita dell'uomo, il bambino si sviluppa nel ventre materno con la testa rivolta verso l'alto, però poco prima di nascere deve avvenire questo capovolgimento. Questo capovolgimento in questi pochi mesi, in due mesi da quando è stata data la cosa, non può avvenire, perché per creare un bambino vivente ci vogliono nove mesi. Quindi è stato scelto questo momento in cui la gente è distratta e va in vacanza, perché in questo modo si solidificano le due correnti ostacolatrici dell'uomo che sono così composte e ve lo voglio raccontare. Da una parte l'illusione luciferica di cui ormai possiamo vedere Grillo come esponente già defunto, perché quel metodo che ha illuso l'Italia di essere liberi con i vaffadei, abbiamo capito dove ha portato, perché il signor Grillo, che è genovese, ha guardato ai soldi, quindi quando l'hanno minacciato aveva paura, mi ricordo un giorno che me lo disse, io ero per destino tornando dall'Isola dei Famosi con il suo portaborse che era seduto davanti a me in prima classe, io tornavo da tre mesi di digiuno per cui mi ero garantita di poter tornare almeno in relax, chiesi a lui di fare una chiamata a mio marito perché non avevo ancora contatti e questo mi disse che lui era l'amico di Grillo. Poi ho scoperto perché ho saputo dei retroscena, guarda caso il destino ti pone proprio a trovare quelle coperte e quei coperchi che mancano quando c'è lo zolfo nel piatto. Quindi da una parte dovremmo tutti capire che le illusioni stanno a zero. Allora se noi continuiamo a far sopravvivere un cadavere come quello del nostro Parlamento, sono tutti cadaveri perché hanno tutti accettato di votare queste disposizioni di draghi perché avevano paura di perdere il cadreghino, soprattutto i Cinque Stelle che non avevano anni per garantirsi la pensione. Quindi quello più sano ha la rogna. Allora che cosa penso io umilmente come ultima della fila calpestata da tutti? Penso che per la musica, perché la musica non sia un fischio assordante, ci vuole la pausa, l'intervallo. Il mio sogno desto è che il 25 di settembre in atmosfera mica elita tutti gli italiani facciano un sogno e San Michele dica loro, desertate, disertate completamente queste sedie elettorali. Perché se voi andate, come diceva Andreotti, che io ho postato questa frase, se vuoi la puoi mettere e puoi aggiungere in questa nostra intervista le sue parole, dice ah voi vi preoccupate se hanno votato a destra o hanno votato a sinistra. Ma noi, la sera delle elezioni, non ci interessa niente per chi vota il popolo. L'unica cosa che ci interessa è l'affluenza alle urne. Questo è detto da quell'uomo che comunque era il più acuto e intelligente, esponente della transizione cattocomunista italiana, del grande compromesso che ha ucciso la democrazia e ha ucciso la Chiesa. Perché adesso la Chiesa è nel dominio arimanico dei gesuiti. Va bene. Draghi è un gesuita, quindi se siete cristiani, tienimi un attimo l'ombrello, fatevi un segno ampliato della croce, ponetevi in equilibrio, sentite il vostro cuore e pensate così, se io continuo a votare qualunque esponente di questo metodo e adesso ci sono quelli che aspirano a entrare nella stanza dei bottoni, ma anche loro quando arriveranno lì entreranno di sicco e poi si mettono di piatto perché hanno la sindrome del culo grosso, delle poltrone, quante volte ho visto questo fenomeno, si prosciuga il cervello e viene grosso il culo. Questo è quello che fanno quando entrano in Parlamento. Allora io dico, immaginate questa giornata in cui, come negli ultimi periodi degli hub vaccinali, c'erano questi e non c'erano i clienti. Noi guardiamo dalla parte spirituale, vorrei che il popolo si riunisse intorno alle Chiese, fuori dalle Chiese, a chiamare fuori i preti, qualcuno ancora in gamba c'è, che si riunissero nei santuari di San Michele e che rendessero visibile la linea di San Michele perché l'Italia ha un compito riguardo all'Europa. L'Italia ha una lingua nata dall'iniziazione di Dante, è una lingua che ci permette di comprendere tutte le antiche tradizioni. Noi abbiamo la funzione spirituale di riportare in auge lo spirito per l'Europa. Nella nostra nuova fondazione, io auspico una costituente che possa mettere come il Bhutan fece anni fa, mise nella Costituzione come primo articolo che tutte le forze di questo piccolo stato imalaiano erano dedicate alla felicità del suo popolo. Ora la felicità sulla terra è un'illusione, lo direbbero i santi risci dell'India, ma per l'Italia dovrebbe essere la missione, la ricerca spirituale nel campo sociale, attraverso l'arte. Allora immaginate che una volta deserti questi presuntuosi arroganti che ci hanno schiavizzato, che ci hanno fatto perdere tutto, e penso alle famiglie che hanno lasciato il lavoro, ma io ho cominciato prima di voi, dal 2016 è iniziata la mia battaglia, quindi sono quanti anni? 2016, 4, sono 6 anni, 2022, che non ho diritto a pensione, non ho diritto a lavorare perché quando passa l'ordine di questi mostruosi esponenti delle lobby massoniche legate alle banche, legate alle farmaceutiche, come quelli che avete portato in Parlamento, perché io non li ho votati, ecco, e qui uso proprio... Un distinguo. Un distinguo, perché ognuno deve dire che chi è causa del suo mal pianga a se stesso. Ora, continuare ad andare a votare senza avere il tempo di capire quali sono le intenzioni e fare questa coesione di forze e di opposizione dove c'è dentro di tutto, creerebbe quello che Goethe indica nella sua meravigliosa fiaba del serpente verde e la bella Lilia, quel re che non sta insieme, All Zusammen König, dicono i tedeschi, cioè quello del tutto insieme, questo pastrocchio, questo sincretismo, un po' di qua, un po' di là, poi alla prima disputa si sfascia tutto e ritorna tutto come prima, anzi, peggio di prima. Allora, siccome la Costituzione è defunta, ed è defunta dal discorso di Conte, che poi è stata, come dire, cremata da Draghi perché l'ha bruciata in tutte le sue manifestazioni, se adesso voi la volete rianimare vi troverete davanti a Frankenstein. E io auspico che si lotti per accettare la morte di questa storia italiana e per dare avvio a un nuovo impulso che abbia come principio il principio spirituale. Il rispetto dell'uomo non solo come corpo fisico, ma come individualità che trapassa il tempo. Questi fondamenti sono già fondati nella scienza dello spirito e basterebbe aprire alcuni libri come La filosofia della libertà per capire le mie parole, che qui posso solo usare in un incipit. Grazie Eleonora per la tua bella testimonianza. Grazie ancora. Grazie. Grazie.